allora prima di iniziare a posare le piastrelle e a stendere la colla praticamente dobbiamo assicurarci che il pavimento perimetrale sia perfettamente a livello o variabile di qualche millimetri due o tre millimetri perché ci causerà dei problemi nella posa del rivestimento che dobbiamo registrare in alcuni casi o mancando un po con la tronchezina giustamente oppure con il distanziatore aumentarlo un pochettino però parliamo di questione di millimetri quindi noi abbiamo una media tra i 127 e 129 e 129 quindi siamo quasi perfettamente a livello e questo deve essere la bravura del posatore che va a posare che deve far camminare il rivestimento sempre perfettamente a livello per salire perfetto perché se no le fughe inizieranno ad avere problemi di margini di variazione e non vedete più la fuga lineare quindi adesso va bene così e vediamo il prossimo video come stendiamo la colla